Licata elegge il sindaco a primo turno senza passare dal ballottaggio. La città delle demolizioni di immobili abusivi esce dalla fase commissariale ed elegge Giuseppe Pino Galanti, farmacista in pensione, sposato e padre di Fausto. È stato votato da 9.885 licatesi con una percentuale del 56,03%. Era sostenuto da 5 liste, Forza Italia, il domani resto a Licata, impegno primario e Licata in volo. Al secondo posto si è piazzata Annalisa Tardino, noi con Salvini, Lega e Marinai di Licata, Fratelli d'Italia, votata da 3.473 persone con una percentuale pari al 19,69%. Terzo posto per Annalisa Cianchetti, Movimento 5 Stelle, che ha ottenuto 3.053 preferenze pari al 17,31%. Al quarto posto Gianluca Mantia, lista Licata un bene comune, con 1.230 voti pari al 6,97%. Galanti ha designato quali assessori Angelo Vincenti, ex consigliere comunale, Angela Mugnos e Salvatore Lombardo. Come in tutte le storie a lieto fine, si riparte dall'inizio, dall'origine di tutto, ha detto il neosindaco Galanti, grazie ad un gruppo strepitoso di amici e consiglieri, grazie ad una Licata che ha scelto di darci fiducia. Adesso possiamo dirlo, Pino Galanti è sindaco, innamorato della sua città e dei suoi cittadini. Partiamo con la convinzione che il meglio siamo noi, ricatesi, avversari compresi, e con coraggio e determinazione Licata possa ripartire. Grazie per la fiducia, grazie coloro i quali con la loro critica ci hanno spinto e ci spingeranno a fare sempre di più. Da oggi la ragione è in comune. La vittoria di Galanti ha fatto il paio con l'affermazione delle sue liste. Tutte e cinque hanno superato la soglia minima del 5%, per cui saranno rappresentate in Consiglio Comunale. A fare il pieno è stata la coalizione che sosteneva la candidatura di Galanti, che secondo quanto si legge sul sito dell'assessorato regionale alle autonomie locali e alla funzione pubblica, ha ottenuto ben 19 consiglieri comunali su 24. Nel dettaglio i candidati che dovrebbero avere un seggio, 6 consiglieri il domani, Giuseppe Russotto, primo degli eletti, Vera Lauria, Carmeninda Callea, Alessio Munda, Gabriella Di Franco, Andrea Carella, 5 consiglieri a Licata e in volo, Andrea Burgio, Violetta Callea, Francesco Moscato, Baldo Augusto e Vincenzo Graci. 4 consiglieri per impegno primario, Angelo Iacona, Martina Farruggio, Giuseppe Peruga, Giuseppe Scozzari. 3 consiglieri a resto a Licata, Piera Di Franco, Lillo Scrimali e Salvatore Posata. Un consigliere a Forza Italia, Giuseppe Ripellino. 3 consiglieri al Movimento 5 Stelle, Vincenzo Carità, Melania Dorsi e Domenico Cuttaia. 2 consiglieri a noi con Salvini, Lega, Anna Triglia e Gatano Aronica. Restano fuori dal consiglio le liste Licata, un bene comune che sosteneva Gianluca Mantia, che si è fermata al 3,57%, e Marinai d'Italia, Fratelli d'Italia, che con 764 voti ha riportato il 4,50%. Sarebbe abbassato un piccolo sforzo in più per raggiungere il quorum. Il candidato di sesso maschile più votato al Consiglio Comunale è stato Giuseppe Russotto, con 1.382 voti. Ha preso più voti lui dal candidato sindaco Mantia della lista Il Domani, mentre la candidata di sesso femminile più votata fa parte della stessa lista ed è vera laurea. Forza Italia, invece, ottiene un seggio che andrà all'ex presidente del Consiglio Comunale, Pino Ribellino. Grazie. Grazie.